Negli ultimi anni Inter Milan ha sempre avuto un'importanza un po' più minore, un po' a scalare perché se si è passati da un derby che poteva decidere lo scudetto oppure in alcuni casi anche una semifinale di Champions League se andate sempre un po' più con gli anni, attraverso ovviamente il calo generale di queste due squadre a un derby, diciamo un memorial derby se così si può dire, parafrasando una battuta che fecero i laziali proprio contro di noi sono diventate delle partite che praticamente facevano vedere soltanto chi era meno peggio tra queste due squadre partite che vedevano un Inter sesta, un Milan ottavo per dirvi e che quindi hanno perso negli anni lo smalto che c'era invece nei primi anni 2000 per fare un esempio comunque nonostante questo e nonostante Inter e Milan non lottino per lo scudetto in questa stagione la partita di questa sabato, perché sabato perché domenica ovviamente è festa, assume un'importanza veramente elevata questo perché il Milan nell'ultima giornata ha sorpassato l'Inter tornando a più due dopo che per tante giornate era rimasta sotto e l'Inter sembrava aver preso il largo l'Inter che con queste ultime due sconfitte consecutive ha diciamo quasi compromesso il suo cammino in questo campionato e il Milan l'ha di fatto superato grazie alla vittoria per 4-0 contro il Palermo e il Milan che secondo me non ha una squadra più forte dell'Inter, anzi l'Inter per me è più forte tecnicamente però c'è anche da dire che l'Inter ha speso molto di più sul mercato rispetto al Milan che ha semplicemente fatto qualche aggiustamento qui e là, ha preso giusto Deleuze a gennaio e non mi ricordo neanche chi ha preso Ada in estate per farvi capire il mercato che hanno fatto mentre invece l'Inter con tanti vari Giomario, con i vari Candreva e comunque ha fatto una rosa molto più forte rispetto al Milan e trovarsi sotto i rossoneri per loro secondo me da esterno è veramente quasi una sconfitta e comunque diciamo che a questo derby per forza di cose ci arriva meglio il Milan piuttosto che l'Inter il Milan che comunque nonostante una rosa appunto inferiore rispetto all'Inter ha trovato diciamo serilità ha diciamo iniziato a vincere quelle partite che una squadra deve vincere per andare avanti in campionato perché i campionati non si vincono solo battendo la Juve o battendo le grandi squadre in campionato ma si vincono anche battendo le squadre più piccole è vero che comunque il Milan ha pareggiato con il Pescara nella precedente partita dopo il Palermo però comunque ha saputo rialzarsi subito dopo diciamo ha fatto un po' quello che ha fatto la Roma nell'anno di Zeman perché non so se ricordate pareggiamo 1-1 col Pescara e la partita dopo vincemo 4-0 contro il Siena di allora mentre invece in questo caso parliamo del Palermo comunque siamo stati bravi sia noi in quel caso che il Milan in questo caso a rialzarsi subito e a non precipitare sempre di più dopo quel brutto pareggio e quindi secondo me attualmente a livello mentale ci arriva più meglio ci arriva meglio il Milan piuttosto che l'Inter però bisogna dire anche un'altra verità quello che ho detto inizialmente l'Inter è più forte dal punto di vista tecnico e qui secondo me giocherà molto a favore di ognuna delle due squadre come deciderà il mister di improntare la partita perché diciamo che Pioli in questo momento è molto criticato perché una parte della tifoseria dice che è solo il colpevole di tutto quanto mentre invece un'altra parte della tifoseria forse più ampia dice che invece lui è un martire e i colpevoli sono principalmente i giocatori che sono pagati per fare schifo in campo comunque il malumore ti porta sempre ad avere tutti questi giudizi a colpa di uno, a colpa di l'altro, a colpa di destra, a colpa di sinistra e quindi diciamo che anche per questo motivo la mente dell'Inter non è sereno quindi Pioli per me se vuole vincere questo derby deve togliersi di dosso tutte le critiche che gli stanno piovendo in queste giornate e mettere una squadra equilibrata dal primo all'ultimo giocatore una squadra che comunque deve saper colpire al momento giusto e deve stare attenta anche a non subire i contropiedi perché Deleuze per il Milan è un grandissimo contropiedista ma soprattutto parlando del discorso di colpire nel momento opportuno lo dico soprattutto perché il Milan Milan, molti non lo sanno, ma è la terza migliore difesa del campionato dopo soltanto Juve e Roma hanno una difesa persino migliore rispetto al Napoli terzo quindi comunque per l'Inter sarà importante sfruttare bene i pochi palloni che avranno a disposizione perché diciamo che questo è il compito di Cardi cioè segnare con poche palle a disposizione perché Cardi è proprio quel tipo di giocatore quel giocatore che con due o tre palloni toccati te la riesce a mettere dentro anche giocando una partita brutta perché io mi ricordo anche l'Inter Roma giocando una partita per me è molto brutta però riusci comunque a segnare e a metterci paura negli ultimi minuti della partita e quindi secondo me l'Inter dovrà essere bravo e soprattutto i Cardi dovrà essere bravo a sfruttare le poche occasioni che avrà a disposizione mentre invece parlando dall'altra parte parlando della sponda milanista secondo me il Milan dovrà sfruttare a proprio vantaggio la situazione diciamo negativa dell'Inter in questo momento perché l'Inter come vi ho detto finora è molto forte è più forte però deve sapersi rialzare dal punto di vista mentale quindi magari per il Milan segnare un gol subito sarebbe molto importante perché faresti precipitare ulteriormente un ambiente che è già rovente quindi se da una parte l'Inter deve riuscire a essere più calma e a segnare nei momenti più opportuni il Milan per poter vincere secondo me dovrebbe segnare subito dovrebbe attaccare subito con grande grinta per colpire l'Inter nei primi minuti e farli sprofondare sempre di più dal punto di vista mentale perché già attualmente sono sull'orlo del baratro sono dal poter diventare grandi o dal poter diventare piccoli se così si può dire e quindi segnare un gol subito potrebbe essere importante per mettere fin da subito le basi della partita a proprio vantaggio comunque secondo me è un derby molto equilibrato perché da una parte vediamo una squadra più forte tecnicamente ma in questo momento con un ambiente molto negativo mentre invece dall'altra parte vediamo una squadra meno forte tecnicamente ma un ambiente molto più positivo soprattutto dopo i recenti risultati in campionato fatemi sapere invece voi nei commenti qual è secondo me la favorita di questo derby importantissimo per queste due squadre che potrebbe valere Europa nel caso di un'altra squadra e su satagione deludente per quanto riguarda l'altra un saluto e ci vediamo ad un prossimo video sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi